Ma in effetti noi poco tempo fa abbiamo fatto un sopralluogo e tutti si sono resi conto che il centro è quasi in conclusione, manca poco. In effetti abbiamo dato incarico al direttore del lavoro, l'ingegnere Fiore, di fare una perizia di assestamento, lui l'ha redatta e quindi dovremmo dare incarica ad una ditta per effettuare questi ultimi lauretti che comprendono la sistemazione, una pitturazione interna di tutti i locali perché hanno bisogno di una ripulita e la realizzazione del macciarpiede esterno che parte dalla rotonda di Valle fino al limite della proprietà del centro per l'autismo per mettere in sicurezza il collegamento tra il centro autismo e il resto del centro abitato di Valle e poi tanti altri piccoli lauretti. Io ne ho parlato con il dirigente, darà incarico al RUP di procedere per la gara e quindi penso che siamo in chiusura per quanto riguarda il centro dell'autismo, almeno per quanto riguarda il mio settore, quello dei lavori pubblici. Dopodiché toccherà al sindaco e all'ASRA decidere chi dovrà gestire questa struttura. Non dico dati perché a essere sincero mi porta male direi, però io credo che veramente questa volta siamo agli sgoccioli. Quindi credo che per autunno tranquillamente la struttura può essere tranquillamente data in gestione. E' di 150 mila euro, quindi il quale dobbiamo togliere l'IVA e tutto il resto. Diciamo che l'importo dei lavori si aggira intorno ai 5-110 mila euro. C'è pure la parte elettrica che fu lasciata ai padri? Allora la parte elettrica quella comprende il vecchio appalto, ma non perché non è fuori o meno, perché la ditta battista non ha mai posto in opera i frutti per evitare che qualcuno venisse vandalizzato e rubare i frutti e tutto il resto e poi non è un danno da poco. Per cui queste attrezzature ce le ha in carico la ditta battista che le metterà in essere appena noi daremmo l'ok. Non l'abbiamo fatta ancora, però io ho parlato con il geometra Sasso dell'Asla e abbiamo saputo che la settimana prossima andremo a fare già un primo sopalluogo in modo per renderci conto di come è fatta la struttura e se all'Asla hanno bisogno di qualche ulteriore opera è proprio il momento giusto perché dobbiamo appaltare questi lavori e se c'è bisogno di fare qualche ulteriore opera noi tranquillamente la potremmo mettere in essere.